Il Lecce di mister Robertino Rizzo perde la gara di ritorno dei quarti di finale dei play-off di Lega Pro, si arrende solamente ai calci di rigori sul campo dell'Alessandria. Per i giallorossi sarà il sesto anno consecutivo in Lega Pro, una vera e propria maledizione play-off. È la solita delusione purtroppo che in questi anni ci accomuna, non meritava di perdere, forse avremmo dovuto vincere qui, comunque gli spareggi sono sempre accompagnati dai rigori, sono sempre una lotteria. Guarda, io non so che dire, ieri poi, non lo so, è stata una bella partita, però non lo so quei rigori, forse il primo errore è stato quello fondamentale, il primo rigore è sbagliato. Perché il palo magari è l'ultimo, si può pure prendere, poi forse durante la partita un po' di fortuna in più e un po' di capabilità in più, perché i mezzi ce li ha. Secondo me alla fine c'era più Lecce che Alessandria ieri, sincero, quindi alla fine forse ai punti l'avrebbe vinta il Lecce, senza arrivare ai rigori, diciamo. Però i rigori purtroppo, come sempre, rimangono delle lotterie, nella storia è sempre stato così. Quando ho visto che il Lecce ha sbagliato sul palo, che ha picchiato il palo, ho detto, mamma mia, ho detto, oi me. Poi dopo ho rimasto male, sì, ho rimasto un poco male a casa, perché come ho visto poi che hanno segnato loro, ho detto, ma non ce la facciamo più. Poi ho visto i giocatori del Lecce che si sono messi a piangere pure. Che dobbiamo fare? Oramai stiamo in Serie C. Non meritavamo perché abbiamo dato tutto sul campo, Rizzo è un grande allenatore, però il calcio è questo e niente. L'anno prossimo? Guardi, io non sono tiposissimo, però siamo abbastanza sfortunati, specialmente nell'ultima partita. L'anno prossimo ci riproveremo? Per provarci assolutamente, non si sa come andrà, però dai, speriamo. Vediamo in attesa dei ripescaggi, magari, se mai la ternana fallisca. Comunque ieri è partita migliore dell'anno, migliore degli ultimi cinque anni, attraversa gli ultimi due minuti e si perde il rigore. Il Lecce è proprio così, è una maledizione che si sta controponendo nella nostra Lecce, ma sicuramente io penso che molto probabilmente ce la faremo. L'anno prossimo? Quest'anno purtroppo è andata malissimo, però dobbiamo accontentarci anche di questi risultati. Non mi interesso di calcio, premetto, però ovviamente per me è una sconfitta, anche perché sono un Lecce nato, cresciuto e pasciuto, come se sono di a Lecce. Grazie. 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 Grazie.